Buonasera, gentili amici, grazie di essere qua. Dirò due parole su questo libro che ha un titolo drammatizzante, La fine di Roma, ed è un po' così, nel senso che Roma ha conosciuto tante fine, anche quella attuale se non una fine è quantomeno un declino serio, però quella fu proprio una fine nel senso di un cambio di cultura e di civiltà. Allora io ho pensato che potevo raccontare alcuni luoghi di Roma, tanto che questo libro in un certo senso e parzialmente può essere preso come una guida, tra alcuni luoghi di Roma che testimoniano di quel passaggio. Ecco, questo è lo scopo del libro. Io ieri pomeriggio ho dovuto girare un piccolo spot per la RAI al Foro Romano, dove c'era una cosa, tra l'altro un caldo ripugnante, centinaia di turisti, tutti con le braghe, quelle scarpe di plastica, infradito, e passavano davanti a queste cose con l'aria di non vederle. Mi chiedevo, vale la pena di fare un viaggio, affrontare il caldo, la polvere della via Sagra, che ormai il basolato c'è e non c'è, quindi c'è parecchia polvere che col caldo per non vedere niente. Ecco, questo libro potrebbe essere un aiuto a vedere un po' meglio queste cose, di cui adesso con le fotografie che abbiamo qua, che avremo qua, però prima volevo dire una cosa. e teori, insomma, non toponomastica, non topografica, e cioè il passaggio dall'età classica o pagana al cristianesimo non è una cosa che è venuta così di colpo, è un passaggio che è durato quasi quattro secoli e i cristiani non è che ci sono sono stati individuati come cristiani poi divisi nelle varie confessioni col tempo per molto tempo ma proprio per un paio di secoli i cristiani erano degli ebrei che avevano una setta perché, sapete, c'erano i sadducei, c'erano i farisei, c'erano gli zeloti, c'erano tante sette ebraiche e c'era anche la setta dei seguaci di un profeta morto sulla croce. Quindi agli occhi dei romani i cristiani erano identificati come degli ebrei solo con la differenza che mentre gli ebrei, gli altri che stavano a Roma, ab immemorabili, come si diceva non facevano proselitismo, se ne stavano per conto loro questi ebrei cristiani facevano molto proselitismo cercavano di convertire e poi quando sono cominciate le persecuzioni contro di loro ed è interessante vedere perché cominciarono le persecuzioni contro di loro cominciarono perché agli occhi dei romani questi ebrei erano atei, pericolosamente atei seguaci di una virgolette tacito nefasta superstizione perché nefasta superstizione? perché tutte queste cose bisogna metterle in fila per cercare di capire nefasta superstizione perché la religiosità romana era una religiosità fortemente intrisa di patriottismo l'imperatore assommava in sé la carica politica, militare e religiosa era Pontifex Maximus, cioè capo di tutti i sacerdoti titolo tra l'altro che il Papa Cattolico ha preso paro paro sommo pontefice che è proprio preso da là e messo qua allora rifiutarsi di mettere un granello di incenso sotto la effigie dell'imperatore era un gesto non solo sacrilego ma antipatriottico sul patriottismo romano che comprendeva dunque la religiosità si era fondata la gloria il potere l'espansione continua della città e quindi questi che si rifiutavano di fare queste cose venivano guardati con molto sospetto come perturbatori dell'ordine e in un certo senso lo erano perturbatori dell'ordine anche al di là della visione dell'ottica con la quale i romani li guardavano perché per esempio si rifiutavano di dare le generalità dove sei nato? io sono nato in Cristo sì ma ho capito ma la città, il luogo, il borgo rifiutavano, diremmo in termini contemporanei il servizio militare non mi è lecito impugnare le armi insomma agli occhi di una città imperiale nelle sue varie articolazioni territoriali che era Roma risposte di questo genere erano fortemente preoccupanti e questo spiega perché cominciarono le persecuzioni ecco dicevo a parte questo torno al discorso principale questa sulle persecuzioni era un ramo collaterale il discorso principale è che la sostituzione di una civiltà all'altra richiese una quantità di tempo molto lungo e questo andò provocò degli attriti delle incomprensioni degli atti di crudeltà molto feroci a volte questo non va negato furono gesti feroci a volte e però lentamente questa setta ebraica acquistò una sua individualità e addirittura entrò in conflitto con la sua matrice ebraica donde mi permetto di dire ma appoggiato a solide fonti donde il tono anti ebraico anti giudaico per meglio dire che spesso trapela dai vangeli i quali quelli quattro canonici i quali sono tutti posteriori al settanta anno cruciale l'anno della distruzione del tempio di Gerusalemme e sono tutti posteriori al settanta quando il conflitto tra i giudei cristiani di cui i quattro vangeli insieme ad altri sono l'espressione e gli ebrei ebrei chiamiamoli e ormai era venuto per così dire ai ferri corti capite allora molti di voi queste cose le sapranno benissimo però io le ho un po' raccontate qua dentro per far capire anche per esempio c'è quella ecco sì c'è la la fotografia del Pantheon la fotografia del Pantheon a Roma con quell'imponente colonnato questo è il più grande edificio pagano tra virgolette arrivato praticamente intatto fino a noi l'unica grave spoliazione fu quando Papa Barberini Urbano VIII fece prendere la copertura in bronzo dei giunti del soffitto i giunti del soffitto erano ricoperti in bronzo fece togliere tutte le coperture in bronzo perché gli serviva il bronzo per fare monete e anche cannoni come per Castel Sant'Angelo insomma quella fu l'ultima ruberia però l'edificio è arrivato fino a noi praticamente intatto e questo lo dobbiamo al fatto che molto rapidamente già nel terzo secolo venne trasformato in chiesa cristiana ecco allora questa sovrapposizione di edifici trasformati adattati a Roma la vedete continuamente adesso io ho fatto solo pochi esempi ma se si gira Roma con l'occhio aperto e sapendo che cosa si va a cercare questa giusta posizione di di parti pagane e parti cristiane diciamo è evidente e molto spesso drammatica ecco un esempio è questo è proprio io ieri pomeriggio stavo lì adesso la fotografia non è felicissima non so se ce n'è un'altra no è la sola vabbè allora teniamoci quella non è felicissima perché non so se si vede bene vedete quelle colonne del peristilio quelle diciamo sulla sinistra della foto altissime sono alte 15 metri erano le colonne frontali del tempio dedicato come si legge sul frontone dedicato ad Antonino Pio grandissimo imperatore e a sua moglie Faustina coppia esemplare anche dal punto di vista proprio moderno quel tempio dentro quel tempio venne calata come si vede una chiesa cristiana che si chiama San Lorenzo in Miranda Miranda nel senso delle meraviglie che si vedono da lì perché quella la facciata proto-barocca tra classicaleggiante e barocca quella alta faccia proprio sul foro ed è uno spettacolo non vi posso dire quanto conturbante quella chiesa cristiana venne costruita sfruttando le fondazioni e le murature del tempio pagano proprio una sovrapposizione di civiltà mai come in questo caso evidente quando noi critichiamo l'autoritario premier turco Erdogan perché ha trasformato Santa Sofia che era nata come chiesa cristiana poi diventata museo insomma luogo di visita per i turisti in moschea qui in occidente ha fatto la moschea era una chiesa cristiana Erdogan ha applicato la stessa cosa cioè i vincitori lo fanno quello è meglio che facciano quello che distruggano con la dinamite come è successo nella valle di non mi ricordo con le grandi statue del Buddha ad opera degli islamisti questa è una sopraffazione un atto di arroganza se volete di prepotenza però quello che c'era del tempio grosso modo è rimasto far saltare con la dinamite i Buddha è un gesto di ferocia molto più grande ecco un altro esempio a Roma ci sono due colonne dette coclidi cioè fatte come la lumaca che raccontano una storia raccontano qui siamo non capisco bene se siamo alla colonna traiana o alla colonna antonina perché non vedo insomma se fosse la colonna traiana sopra quella statua di bronzo sarebbe quella di san pietro se fosse la colonna antonina chiara vedi se puoi risolvere l'enigma eh parla forte ecco è la colonna traiana che è la più bella tra l'altro la colonna antonina si trova a piazza colonna come dice la tautologia e davanti a palazzo chigi e si vede spesso inquadrata nei telegiornali per altre ragioni non per ragioni archeologiche ecco sopra le due colonne coclidi che raccontano qua le imprese di traiano e là le imprese di antonino pio che abbiamo già conosciuto sono state messe la stata di san pietro e la stata di san paolo san paolo sta davanti a palazzo chigi ecco anche questo è un gesto no questa colonna non celebra soltanto le imprese di traiano anzi forse non le celebra più questa colonna sorregge lassù in alto la statua dell'apostolo anche questo è un gesto di sovrapposizione di una cultura e di una civiltà ad un'altra ecco questa è la colonna ad antonina e quella è piazza colonna e palazzo chigi non si vede perché sta qua comunque quella è l'altra colonna di fattura dicono gli esperti peggio non raffinata come quella traiana di fatti di parecchi secoli posteriore però alta lo stesso e la statua in bronzo venne eretta fin lassù per le stesse ragioni ecco questo è un esempio di scultura pensate che cosa ci è voluto per fare non so non mi ricordo quante decine di pannelli curvi per adattarli alla rotondità della colonna e inclinati verso l'alto in modo da seguire se io mi tolgo la giacca voi vi disturbate? no vedo il mio editore in maniche di camicia e mi sento autorizzato dicevo pensate cosa vuole dire scolpire tutte le imprese militari seguendo un copione articolatissimo con tutte quelle figurine i romani armati i barbari vinti eccetera eccetera per metri e metri di scultura fino lassù Parigi ha una colonna coclide a Place Vendôme è una colonna non di marmo ma di bronzo fatta fondendo il bronzo dei cannoni vinti da Napoleone ad Austerlitz nella famosa nella più bella delle sue battaglie dicembre 1805 e anche quella è una colonna coclide con benvenuta e anche quella è una colonna coclide ma insomma nulla a che vedere con quelle di Roma che tra l'altro sono due oh qui abbiamo un altro esempio vedete a Roma ci sono 12 o 13 obelischi egiziani a Parigi ce n'è uno a Londra ce n'è uno doni del che divide Egitto quindi ottocenteschi gli obelischi di Roma sono stati portati da Augusto quindi stiamo parlando avanti Cristo come sul dirsi da Caligola da Nerone insomma risalgono un po' più indietro diciamo ed erano siccome sono delle monumenti di grande fragilità per via che sono sottili e alti e dunque vi potete immaginare che il loro equilibrio è miracoloso sono ancorati con un grosso perno ovviamente ma col tempo la maggior parte erano andati erano caduti e cadendo si sono spezzati ovviamente anche se quello è granito rosso tra l'altro in un viaggio in Egitto anni fa sono andato a vedere dove la cava degli obelischi ed è inimmaginabile che un monumento di quella grandezza 12 15 21 metri sia stato staccato intatto da un grande blocco con lavoro di scalpello e poi mettendo dentro la fessura scavata dallo scalpello dei grossi cunei di legno e poi bagnandoli in modo che la pressione del legno durante la notte aiutasse il lavoro dello scalpello e poi il giorno dopo levati i cunei e ripresolo pensate che ci doveva essere una mano d'opera intanto poco costosa e poi molto numerosa per fare un lavoro del genere e poi scolpirli tutti ecco quegli obelischi per la maggior parte riprendo erano andati a terra il papa Sisto V un papa che ha regnato poco ha regnato 6-7 anni non ricordo bene ma insomma pochissimo volle rialzarli volle rialzarli tutti questo che vediamo per esempio è collocato dietro quella basilica bellissima che è Santa Maria Maggiore ecco vuole no un momento ho detto una stupidaggine ci sono i leoni per terra ah no no allora è Piazza del Popolo scusate ma non vedo bene no no quello è un obelisco uno dei più belli tra l'altro quelle non è Santa Maria Maggiore sono le due chiese gemelle che introducono al cosiddetto tridente cioè via del Corso via del Babuino e via Ripetta e quei leoni poi sono stati aggiunti vennero rialzati ricollocati qua e là tra i quali quello magnifico di Piazza San Pietro e però vedete sopra la sommità dell'obelisco chissà se c'è il dettaglio sì ecco alla sommità dell'obelisco e anche qua è stato posto il sigillo pontificale con lo stemma del Papa la stella che irradia in tutte le direzioni si vede bene su quello di sinistra e la croce ma la croce è sospesa sulla stella e sullo stemma pontificio cioè anche questa è una presa di possesso questo è un obelisco egiziano ma cristianizzato e in alcuni basamenti segnatamente in quello che sta in Piazza San Pietro c'è scritto questo obelisco pagano è stato restituito alla gloria e cristianizzato è molto impressionante vedere queste cose tra l'altro voi sapete che l'impresa di erigere l'obelisco di Piazza San Pietro ha del leggendario perché quell'obelisco giaceva in tre pezzi nel circo detto di Nerone il circo di Nerone era sorgeva a fianco guardando la facciata sulla sinistra della Basilica di San Pietro lì c'era il circo di Nerone il cosiddetto Vaticanum zona malfamata della città e giaceva lì e Sisto Quinto decise che andava recuperato e portato al centro pensate che cosa doveva avere in testa questo Papa per ipotizzare ci avrà pensato una notte io quello lì lo prendo e lo metto in mezzo a Piazza San Pietro pesa 40-50 tonnellate e non c'era altra forza che quella muscolare dei cavalli e gli argani ovviamente per demoltiplicare il peso e così fu venne prima rotolato trascinato orizzontalmente su grossi rulli fortemente ingrassati con buoi e cavalli aggiogati che tiravano portato in questo modo nella piazza dove era stato fissato il basamento e costruita un'incassellatura di legno poi il giorno in cui doveva essere alzato eretto vennero adesso lì c'è la cifra non me la ricordo bene ma insomma decine e decine di cavalli e decine e decine di argani con le funi che lentamente sollevarono l'obbedisco sempre in posizione orizzontale e poi diversificando il moto degli argani cominciarono a erigerlo e poi lo spostarono così fino a farlo cadere a piombo perfetto sul basamento dove ancora si trova la tensione delle funi era tale che lì c'è una semileggenda che per la tremenda la tremenda tensione alcune funi cominciarono a fumare e c'era il pericolo che prendessero fuoco e dice la leggenda che un marinaio genovese ruppe il silenzio che era stato ordinato con la tromba chi avesse rotto il silenzio rischiava la vita giustamente perché gli ordini agli argani venivano dati col megafono c'erano centinaia di persone e di animali in quella piazza non c'erano i microfoni e allora questo marinaio genovese disse a quale funi e così fu fatto vennero gettate secchiate d'acqua e l'impresa venne completata compresa la sovrapposizione se mi permettete la piccola digressione io sono contrario all'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici della Repubblica italiana non per ragioni di laicità no per ragioni religiose perché io credo che il crocifisso non la croce non la croce nuda il crocifisso sia un simbolo così io non sono cattolico ma sia un simbolo così potente che non va messo accanto alla fotografia del presidente Mattarella al quale va tutto il nostro rispetto ma debba essere debba avere un trattamento un po' meno negligente perché appeso lì quelle statuine di ghisa composte corrette educate non ricordano in nulla quello che fu l'esecuzione di quel profeta di una ferocia barbarica come era il patibolo della croce che era il patibolo destinato a trasgressioni particolarmente infami i disertori i traditori gli schiavi ribelli quelli meritavano la croce ecco quindi era un patibolo potete immaginare di quale crudeltà ecco quel crocifisso la mia idea è ognuno è libero il crocifisso secondo me non è un simbolo religioso ma di possesso segna il territorio come quelle croci forse sbaglio sicuramente sbaglio ma è un'idea che questo è una stampa del Colosseo ora il Colosseo che è un altro insegna monumento un circo le sponde del Mediterraneo e del Medio Oriente sono piene cioè ce ne sono parecchi di simboli di resti più o meno demoliti di circhi romani questo è un simbolo molto frainteso un monumento molto frainteso perché quando vedete i film americani si vedono i martiri cristiani che stanno per essere sbranati dai leoni dentro al Colosseo che è un una e poi si vede sulla tribuna Nerone che crudelmente dice fa così e dice ammazzateli tutti questo qui Nerone è morto nel 68 quattro anni dopo il grande incendio questo il suo vero nome è Anfiteatro Flavio perché venne ordinato da Vespasiano che è il fondatore della breve la breve dinastia dei Flavi che ha solo tre imperatori Vespasiano Tito e Vespasiano Tito e Vespasiano Tito Buco e il terzo chi era? non era scusate l'irriverezza finisce in ano ma Vespasiano Vespasiano Tito e e e no non è Diocleziano Vespasiano e e adesso viene fuori va beh diciamo che erano tre adesso verrà il terzo alle volte succede voi mi perdete lei signore eh? ecco Domiziano di fatti avrei dovuto ricordarmelo anche senza il suo aiuto generoso perché Piazza Navona che voi conoscete tutti si chiama il suo vero nome era stato stadio di Domiziano che era appunto quel Domiziano lì scusatemi la defiance dicevo questo è un monumento che sorge molto dopo Nerone dove c'è il Colosseo ai tempi di Nerone ma pochi anni prima perché ripeto Nerone muore nel 68 Tito conquista Gerusalemme e brucia il Tempio nel 70 sono due anni lì c'era il lago della Domus Aurea di Nerone c'era un avvallamento dove Nerone aveva fatto costruire il lago della sua Domus Aurea poi morto Nerone i nuovi imperatori cancellarono tutto e fecero quella roba lì che sta ancora in parte al suo posto questo capoccione è Costantino si trova in Campidoglio questa statua questo frammento si trova in Campidoglio e raffigura l'imperatore che nel 313 rese lecita la religione cristiana cioè la mise tra i riti i culti consentiti ecco ci vuole un bel coraggio a fare quel gesto la leggenda dice perché prima della battaglia di Ponte Milvio contro il suo oppositore Massenzio aveva visto apparire in cielo il simbolo della croce ma sono leggende alle quali si può credere ma si può anche non credere in realtà lui aveva capito che di fronte alle languenti alla languente religiosità tradizionale questo nuovo culto che aveva dei seguaci degli adepti così entusiasti così pronti al sacrificio della vita addirittura per difenderlo poteva dare nuova energia era un grande politico fece quel gesto sfidando si calcola che all'inizio del quarto secolo l'impero romano contasse 70 milioni di abitanti tutto l'impero 70 milioni di abitanti bene i cristiani in mezzo a quei 70 milioni erano un'infima minoranza vista dicevamo prima con bene ammettere la loro religione tra quelle consentite fu un gesto politico di grande coraggio e energia del quale lui non si battezzò mai presiedette un concilio quello di Nicea nel 325 fondamentale un concilio importantissimo da pagano non battezzato fece uccidere la moglie e il figlio era un uomo dei suoi tempi dunque non ignorava la crudeltà e si battezzò soltanto sul letto di morte dunque si comportò da imperatore e da papa presiedendo un concilio con tutti i vescovi senza essere nemmeno battezzato era un uomo doveva essere un uomo di una forza intellettuale e di un ardimento e questo capoccione insomma un po' lo testimonia quei grandi occhi questa statua come tutti sapete è quella di Marco Aurelio grande imperatore nel libro troverete un momento non voglio prevaricare nel libro chi vorrà potrà trovare dei frammenti dei suoi ricordi molto belli un uomo un rappresentante politico a quel livello e anche militare che non perse mai la sua umanità e la sua vena poetica questa statua come il panteon è l'unico monumento cristiano pagano arrivato intatto praticamente a parte i bronzi di papa urbano dal cui nacque il detto quod non fecerut barbari ve lo ricordate a scuola in genere si dice fecerut barberini quello che non hanno fatto i barbari l'hanno fatto i barberini questo qui è l'unica statua equestre arrivata intatta fino a noi perché creduta la statua di costantino questa statua era stata trovata vicino a san giovanni in laterano e i territori i terreni lateranensi appartenevano alla moglie di costantino sopra quei terreni che adesso si trovano in una strada che si chiama via dell'amba aradam in memoria della guerra d'etiopia sopra quei terreni purtroppo è stata costruita la sede dell'INPS dell'istituto di previdenza che è un palazzone di quattro piani che non potrà mai essere demolito e sotto probabilmente ci sta parecchia roba che se non ci fosse quel palazzo valeva la pena di andare a prendere questo venne trovato lì e dunque attribuito meccanicamente per comodità a costantino poi dopo venne riconosciuto per ciò che era e un papa che non mi ricordo qual era lo fece portare in campidoglio dove si è trovato e michelangelo disegnò un pavimento apposta stupendo come una molla compressa tutte le esene di pietra larga così fino a quando l'inquinamento dell'aria non ha consigliato di portarlo all'interno e oggi sulla piazza del campidoglio trovate una copia bella insomma fatta con laser non indegna non indegna ovviamente non è quella però non indegna in compenso quella statua messa all'interno in una sala fatta benissimo dall'architetto Aimonino fa una figura ancora più impressionante che all'esterno io la prima io ovviamente Marco Aurelio l'ho visto fin da quando ero bambino fuori la prima volta che sono entrato nella sala dove è stato collocato adesso vi dico assicuro ho avuto un moto di sorpresa e vorrei dire di rispetto perché le sue dimensioni all'interno ecco se stesse qua dentro occuperebbe fino alla sommità di quel lampadario e allora uno rimane un po' bellissima statua grande imperatore adesso mancano dieci minuti ecco quella è l'ultima questo dipinto di Paolo di Tarso che cade folgorato da cavallo sulla via di Damasco lo trovate nella chiesa di Santa Maria del Popolo che fortemente consiglio di andare a vedere ove mai l'aveste mancata l'avete mancata? no lei l'ha mancata? no lei l'ha mancata alla prossima volta la riprende perché lì trovate due Caravaggio uno è questo guardate l'ardimento di mettere in primo piano con rispetto parlando il sedere del cavallo e che è una cosa che da sola dice quel pittore quanto fosse tra l'altro il Vangelo gli atti degli apostoli non dicono che Paolo fosse a cavallo probabilmente stava a piedi ma il cavallo ovviamente attribuisce dà alla scena una maestà maggiore su questa caduta accecato lui rimase Paolo dice Luca negli atti degli apostoli rimase cieco per tre giorni si affaccia all'ipotesi clinica che si trattasse di un attacco epilettico al quale lui probabilmente andava soggetto lui non dice che soffrisse di epilessia dice però in una lettera il Signore ha voluto infliggermi questa spina nella carne alla quale allude a una malattia imprecisata che è stata interpretata come epilessia e lo stesso Paolo trovate sulla copertina di questo libro Ottimamente scelta dall'editore Einaudi questa è una statua di Paolo che l'originale diciamo sta a San Pietro sapete che il colonnato del Bernini ci sono tutte statue sopra quelle più vicine alla basilica una di quelle è la statua di Paolo la cui icona viene tradizionalmente rappresentata con la spada qui c'è uno spadone impressionante perché il simbolo viene interpretato in vario modo o che lui tagliasse di netto perché lui è stato il più forte propagandista della nuova setta ebraico cristiana lui era un fariseo lui lo dice io fariseo della tribù di Beniamino figlio di farisei però si fece a piedi pensate un po' da Gerusalemme ad Atene da Gerusalemme tutta la Turchia ad Atene è un bel viaggio diciamo non in un giorno ovviamente a piedi ci sarà messo qualche mese però la fece era un uomo di una grande forza qui la statua lo raffigura con un forte ciuffo di capelli che incombe sulla fronte in realtà era pare che fosse calvo praticamente calvo basso con un gambe piccolo non alto piccolo gambe stor arcuate un'impressione di forza di forza fisica doveva avere un'energia psicofisica tremenda ho messo credo in testa un capitolo la frase di Nietzsche Friedrich il quale dice senza di lui la religione cristiana sarebbe rimasta una piccola setta ebraica confinata in una zona della Palestina nessuno lo sa quello che è sicuro è che lui è stato il più grande propagandista della setta di Gesù detto il Cristo fuori della Palestina su quello e della sua risurrezione lui era fariseo e i farisei credevano alla risurrezione dei morti i sadducei per esempio non ci credevano oggi non so quante persone credano che i morti tutti risusciteranno un giorno ognuno può pensare quello che vuole lui era fariseo e dunque si fece forte di questa sua fede nella risurrezione per dire per predicare il risorto fu il più forte propagandista della risurrezione di Gesù perché se voi non credete che Cristo è risorto scrive in una lettera testualmente vana è la vostra fede quella spada dicevo può significare o questo la sua decisione oppure lo strumento del suo martirio perché al contrario di Pietro che sta nel Caravaggio in quella chiesa raffigura Pietro mentre viene crocifisso invece Paolo che era fariseo Machives Romanus venne decapitato e allora la spada può si rimandare a quella fine vorrei se mi date un minuto che lo cerco leggervi perché due capitoli di questo libro sono dedicati a uno degli aspetti rivoluzionari del cristianesimo rispetto al paganesimo e cioè la sessualità e l'amore allora ho riportato vari esempi della concezione della sessualità nella Roma classica e della concezione molto più rigorosa al limite insomma un po' troppo della sessualità nel primo cristianesimo oggi quei freni si sono molto allentati perché nessuna chiesa può andare contro del tutto contro l'andamento lo spirito del tempo quindi si sono molto allentati però nei primi secoli erano l'ultimo papa che ha cercato di tenere quei freni molto rigidi fu papa Pacelli più 12 negli anni 50 del 900 quando santificò quella povera creatura di Maria Goretti una ragazzina ammalata di malaria sottonutrita un esserino che morì per non cedere alla violenza di un di un altro disgraziato come lei abitavano nella nella pianura pontina un episodio di una tristezza e papa più 12 la fece santa io vi volevo leggere una cosa mi date un attimo ecco l'ho trovato ecco l'ho trovato per caso vedete la provvidenza dunque vi volevo leggere una piccola favoletta di Ovidio degli Amores che è un capodopera settecentesco mi sbilancio tu te lo ricordi? no l'hai letto? sì beh io lo leggo per chiudere in letizia questa cosa dunque racconta Ovidio la cronaca di un pomeriggio passato con l'amante la traduzione è mia ed è un po' libera rispetto addolcita rispetto al testo però fedele nello spirito era l'ora della calura mi gettai sul letto per riposare un po' la finestra era aperta solo in parte intorno c'era una penombra che ricordava quella dei boschi o del crepuscolo quando il sole tramonta oppure dell'altro crepuscolo quello che precede il mattino quando la notte è lontana ma non è ancora spuntato il giorno è la luce migliore per le fanciulle pudiche che vi trovano riparo al loro timido riservo Corinna mi viene incontro appena velata da una tunica già slacciata i capelli sciolti le coprono il candido collo le strappai la tunica trasparente com'era non dava un gran fastidio però mi resistete quasi volesse conservare almeno quella fragile difesa ma poiché lottava come chi non ha alcun desiderio di vincere vinsi senza troppa fatica ma vi rendete conto della finezza è una cosa che a rileggere ad alta voce ma poiché lottava chi non ha alcun desiderio di vincere vinsi senza troppa fatica con la sua stessa complicità la ebbi davanti nuda senza poter scorgere il minimo difetto nel suo corpo che spalle che braccia vidi e toccai come sembrava fatta per le carezze la bellezza del seno come era liscio il ventre grandi e belli i fianchi giovanili le cosce ma perché indugio in questi particolari non vidi nulla che non fosse perfetto e la strinsi nuda contro il mio corpo a questo punto quel mascalzone di ovidio ha una reticenza maliziosa perché dopo aver descritto la beltà della sua amante e quel primo appassionato abbraccio interrompe la narrazione e sapete che fa pone un interrogativo eccetera quid nescit chi ignora ciò che seguì ma non è un racconto galante del settecento sembra perché non vidi nulla che non fosse perfetto e la strinsi nuda contro il mio corpo eccetera quid nescit insomma un capolavoro grazie grazie